Per la prima volta, a partire da ottobre 2023, Bitcoin Accumulation Trends Score è passato a 0,27. Questo vuol dire che le weights, invece che accumulare Bitcoin, lo stanno distribuendo al mercato, contribuendo ad aumentare della selling pressure che stiamo vedendo negli ultimi giorni. Hi guys, qui è Ryan, il vostro Crypto Analyst di Piducia, e in questo video voglio subito aggiornare con quello che sta succedendo sul panorama delle CryptoRoot. E infatti vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un like, attivare la campanina perché è di fondamentale importanza di maniere on time su questo settore. Come vi dicevo, guys, abbiamo degli indicatori che ci mostrano come diverse weights stanno distribuendo Bitcoin nelle ultime settimane invece che andare ad accumularlo, creando price-only vendita su Bitcoin. Ma prima di andare a formalizzare i dodger map con le ultime news che impatteranno il mercato, durante questa settimana partiamo con la Crypto Hitmap di CoinMarketCap. E infatti, diciamo come Bitcoin sta quotando a 63.550 dollari, rimane in variata l'oscillazione nelle ultime 24 ore, ma rimane una dominance molto forte, dei 54,10%. Ethereum nello stesso momento anche rimane in variata, quotando a 3.084 dollari, leggermente sotto la solida i 3.100 dollari. In generale abbiamo un mercato in ripresa nelle ultime 24 ore, anche se rimaniamo molto in megatipo sul settimanale. Infatti, se mettiamo le settimanali, vediamo come molte altcoin hanno una perdita superiore al 25%. La parola che possiamo vedere anche sul mensile, a par che pochissime altcoin, come per esempio Ondo, del settore R2, over real world asset, ton più 64%, core più 268%. La parola in generale è negativa, infatti abbiamo Solana che perde quasi un 30% sul mensile, 48% sul mensile, ma comunque sull'annuale rimaniamo nettamente positivo su quasi tutte le altcoin. Passiamo con Bitcoin, perché volevo mostrarvi come sta andando e come sta performando. Infatti, negli ultimi ore sta avendo una reazione, una forte reazione, nella zona che è stato il minimo toccato il Bankimapso 2024. Questa zona, come ti ho detto più volte negli scorsi video, è fondamentale che la movimentazione dei prezzi di Bitcoin la mantenga, poiché se dovessimo perdere questa zona potremmo direttamente prontarci a 52.000 dollari. Abbiamo già visto come la zona tra i 60.000 dollari e i 52.000 dollari sia una zona a scarso interesse volumetrico, e di conseguenza è di fondamentale importanza andare a mantenerla. Volevo mostrarvi anche la liquidation heatmap, perché qualora noi dovessimo trovare una forte domanda, magari incentivata anche dallo supply che troviamo in questa zona, potremmo direttamente, ripeto, qualora dovessimo utilizzare questo livello come supporto, potremmo andare direttamente verso i 71.600 dollari, perché è il livello più importante che, soprattutto sul mensile, ma ancora di più sul weekly, Bitcoin trova come punto di interesse, poiché abbiamo un liquidation leverage superiore ai 2 miliardi di dollari in un piccolo range di prezzo che va tra i 71.500 dollari per arrivare fino ai 71.800. Infatti qui troviamo tutti gli stop loss di tutti quei player che si sono posizionati short a mercato. Non tutto il male viene per muoscere, perché questa ricorrezione che abbiamo visto su Bitcoin, che ha portato ovviamente il prezzo da 73.600 dollari, un all-time high addirittura toccato per la prima volta della storia, in una fase pre-albing non era mai successo, infatti abbiamo visto una correzione, la movimentazione dei prezzi del 17%. Molti analisti, come vi ho detto prima, chiamano Bitcoin a 52.000 dollari e questo farebbe una correzione di circa il 30%, che a livello storico l'abbiamo vista più o più volte in pre-albing o post-albing, una correzione del genere, prima di andare effettivamente ad innescare la bella bullrun. Non credo che la positività su Bitcoin innescata dalla bullrun sia ancora arrivata veramente e soprattutto non quello che questi siano i top di questo ciclo di mercato, però è normale vedere una correzione dei prezzi. Dato che vi dicevo da diverse settimane, se non da diversi mesi, che Bitcoin non può andare soltanto verso l'alto, infatti vediamo come sul settimanale praticamente siamo in verde a partire dai 38.900 dollari. Una correzione di questo genere è di fondamentale importanza che avvenga e questo, come vi dicevo, ha innescato una correzione di diversi indicatori in ceni come l'MVRB, Zscore, stessa cosa per il Royal Ratio, che siamo ben distanti dalle fasi di top, possiamo dire anch'esso per il Net Unrealized Profit Loss. Bitcoin è un asset volatile e soprattutto influenzato dal mercato tradizionale della situazione geopolitica. Infatti vediamo come, nell'ultima settimana, stiamo vedendo un intensificare tra la guerra di Israele, un possibile nuovo scenario con l'Iran. Infatti vediamo come il DXY, proprio a partire dal 9 aprile 2024, è aumentato sensibilmente. Questo ha riscapito sia di Bitcoin che dei maggiori indici. Infatti vediamo che anche i mercati tradizionali, proprio a partire dal 1 aprile, in realtà, prendiamo il caso dello Standard & Poor's 500, abbiamo visto una performance negativa di 4,27%, che per noi criptomani può sembrare poco, ma per i mercati tradizionali invece stiamo parlando di cifre enormi. Guys, rimanete fino alla fine di questo video, perché vi do l'opport click app, per anche in pochissimi giorni, perché soltanto 6 giorni di partecipare, e di ottenere una mystery box che può darvi una vincita fino a un Bitcoin. Ma prima andiamo a vedere una chart molto importante, per il quale vi dicevo come se dovessimo perdere i 65 mila dollari, UTXO Realized Price Distribution, che prende in considerazione i vari investitori investono in Bitcoin. Infatti, più alto è questa colonna e più c'è interesse a livello di accumulo da parte degli investitori, in questo caso in Bitcoin, vediamo come se noi dovessimo perdere i 65 mila dollari, la prima zona di forte interesse sarebbe i 51 e mezzo o 52 mila dollari. Infatti, leghiamo che non abbiamo forte zone di accumulo tra queste due zone, ovvero i 62 mila dollari e i 51 mila cinquecento dollari. Quindi, come vi dicevo sul daily, dobbiamo riuscire a mantenere la storia dei 62 mila dollari, altrimenti la possibilità di andare direttamente fino ai 52 mila dollari c'è ed è molto presente. Un atto grafico che abbiamo citato nell'intro del video è l'accumulation trend score di Bitcoin. Infatti, vediamo come tendenzialmente siamo passati da un livello superiore ad 1 per arrivare a un dato dello 0,27. Vuoi dire che le Bitcoin Ways potrebbero star distribuendo Bitcoin incrementando la selling pressure sull'asset stesso. I pochi abbiamo perso 10 mila dollari di controvalore per il singolo Bitcoin in pochissime settimane. E questo indica il fatto che le principali Ways monitorate attraverso questo graphic on-chain non stanno accumulando Bitcoin, almeno per adesso. Ovviamente è una medica che cambia nel corso del campo e quindi post-holding potremmo vedere le Ways tornare a accumulare Bitcoin. Parliamo di dati fondamentali. Infatti, ieri apparava Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, in pubblico e ha dichiarato come delle centi dati, come per esempio i CPI numbers, i producer price index e i PIL americani non danno dei segni di fiducia alla Federal Reserve per iniziare un taglio dei tassi. Infatti, sappiamo bene quanto i tassi di interesse che sono gestiti dalla Banca Centrale americana sono ai massimi storici ormai dal 2001. Infatti, molti analisti si aspettano che durante quest'anno inizino a tagliare i tassi, però fanno pensare quanto l'inizio della taglia dei tassi possa posticiparsi durante quest'anno. Devevo parlato dei Bitcoin Spot ETF e degli Ethereum Spot ETF che sono stati approvati ufficialmente dalla Security and Futures Commission di Hong Kong. E questo apre un mercato asiatico per investire in questi due cryptoassette anche per investitori istituzionali. E' anche vero il fatto che molti analisti si aspettano un OEM di circa 5 miliardi di dollari nei primi tre mesi. E' anche vero che avrà un grosso impatto effettivamente su Bitcoin, ma niente a paragonare con i Bitcoin che sono stati quotati nelle borse americane perché è un mercato molto piccolo, quello di Hong Kong, ma che potrebbe comunque contribuire ad un'eventuale salita di Bitcoin. Guys, siamo arrivati alla fine di questo video. Come promesso vi lascio il link qui sotto nel box per iscrivervi a BingX, ottenere il 20% di sconto sulle fees, ma soprattutto avere la possibilità di vincere fino a un BTC attraverso la Mystery Box che, ricordo, siete legibili soltanto se vi iscrivete attraverso il link che lascio qui sotto. Date con una promo dedicata. Inoltre ricordo che su BingX potete operare su diversi settori come per esempio commodities, indici, materie prime, criptovalute e moltissimi alt-tip. Darei nel tutto, tutti i link in the box. Ci reghiamo domani. Bye!